Allora ragazzi, aspetta, ho ricevuto video, commenti, sto facendo laimai, non so dove mettere il video, anche se oggi il video è a mercoledì oggi, non lo dovevo fare, però io non so giorni, perché non so tipo giorni quando lo posso fare, quindi, vado a youtube e iniziamo. Dai, 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 i miei piedi, scusate. Allora, dai, 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 forse hanno pubblicato cosa c'è nella mia pallidia, aspetta, vedo, no, non ho pubblicato, oppure nella confusa? Nessun commento Il 2 agosto C'è la ragazza Ah L'ultimo che ha fatto Peppe è vero fidanzato? No Cioè era Due volte a sé Quindi sono due Peppe oggi non c'è Quindi Per Lai Noi non la possiamo cantare La canta insieme La canta e la spuola Ma no ma no Con questo bokeh mongo Mi sa che ti stai rincoionendo un po' Stamattina ho visto Che muta di neppana Non c'è Mentre dormi Ma non è capi Vedi Allora Fa C'è niente quanto riguarda Fumi? No Mi presello neanche Che lavoro vi piace fare? A me quando sono grande Mi piacerete Beh Diventare Una stivista Sei fida? No Prima di iniziare La parola più dolce Dico la parola più dolce Perché non c'è Però farò La parola più dolce Questo è il primo Ai mai Ai mai Ai mai Ai mai Ai mai Ai mai Amore Tu Peppe Cuore L'hai mai durato così poco Che non ci riuscirò A fare E cantare Mi ti metto a questo cretino Non ci fate caso Sono cretina Ah tu sei cretina? No No E me fai Sei fisi Vabbia Allora Ioventis Cannella Come ti chiami Vito Vito Ioventis E da Votto Guarda Non è vero Ah A posto del canale Di Ioventis Vito Cannella Non ce l'ha Comunque Seguitemi su Witter Perché Ancora vi devo ricordare Che ho Witter E Instagram Chissà quanto volte Ve lo devo ricordare Poi farò Vito Vito E Instagram Poi farò Le cose Cioè Le applicazioni Del mio telefono Ciao